Qualche giorno fa abbiamo contemplato Cristo luce delle genti e con le candele accese stiamo andati incontro al Signore che viene nella nostra vita ogni giorno per dare vita e salvezza a noi e al mondo intero. Noi della comunità in cui ci si accoglie vicendevolmente e vicendevolmente ci si accompagna nel cammino dei giorni, è in noi dello spezzare il pane, del sostenere il tepole, dell'ospitare lo straniero e del vestire chi è nudo, è in noi di chi non distoglie gli occhi dalle altrui miserie. È in noi di chi si occupa della propria gente e della propria città, di chi trova guarigione alle proprie ferite non leccandosele in un isolamento individualistico ma nel guarire le altrui ferite. È in noi del popolo nel quale si cammina insieme senza fuga in avanti ma anche senza pigrizie. Voi siete la luce del mondo dunque. Collegata a quella della luce c'è l'immagine della lampada, passimo bene possibile perché troppo sale disturba, poco sale il più delle volte è il di più. Voi dunque siete il sale che si scioglie nella massa del mondo. Voi siete la luce che dà sapore alla massa dell'umanità. Un sale che non sala è quello che si ragùa in se stesso e non si disperde. Grazie. 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 La terza immagine evangelica è la città costruita sul mondo. De la Hispola Perrine di Gesù Vecchio Alla dalla felice del Cristo Il mondo di oggi va accettato con atteggiamento positivo per cercare di cambiarlo alla luce del progetto di Dio su di essi. Sarà la fede al Vangelo a renderci capaci di parlare del Dio di Gesù Cristo all'uomo di oggi, a farci trovare strade nuove per la missione e a gettare i ponti anche verso ambienti ritenuti irraggiunciti. E la missione della Chiesa si esplicita non nel proseguitismo che può giungere perfino a far ammazzare in nome di Dio, ma è la testimonianza che dà ragione della fede con le pacifiche albi della speranza e dell'amore. La Chiesa si presenta dunque come la città santa in cui si vivono relazioni vere e pure con il promuovere un'autentica cultura dell'incontro, aiutando innanzitutto le persone ad incontrare Gesù Cristo e a favorire quindi relazioni interpersonali, libere e liberanti. La vicinanza e la condivisione fanno bene a tutti, mentre la distanza e la rivalità fanno ammalare tutti di asfissia. Il terrorismo delle ghiacchiere, direbbe Papa Francesco, la pratica della mormorazione, diciamo noi, la competizione portata al parossismo sono dei vizi subdoli, il più delle volte nascosti nella vita dell'anonimato. Non ci si può richiamare al Vangelo ed essere al contempo chiusi alle opere del Vangelo fra gli uomini. Fede e chiusura sono termini che si escludono a vicenda. Una chiesa chiusa in se stessa si ammala per mancanza d'aria. Nei nostri ambienti ci deve poter respirare l'aria pulita e montana del Vangelo. L'amicizia di Gesù Cristo, in fondo, è lo Spirito Santo, è Spirito di luce e di vita, Spirito di verità e di pace, Spirito di giustizia e di misericordia. Lui è l'aria pura che ringiovanisce continuamente la Chiesa. È Lui il vero dono divino che la rafforza con i Suoi santi ed innumerevoli doni. La Chiesa vuole lasciarsi guidare da Lui. Docilmente e fiduciosamente la nostra Chiesa vuole affondare le radici, non su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della Sua potenza, perché la vostra fede, ha ricordato San Paolo, non fosse fondata sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio.